cari amici ben arrivati a una nuova puntata di imparare guardando ciao ragazzi ciao damiano ciao roberto allora oggi roberto parliamo di un autore che lo conosceranno tutti 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 se non lo conoscete cartellino rosso immediatamente togliete l'iscrizione al canale scherzo dai andiamo a vedere questo libro dedicato al fiume po di michael ken allora imparare guardando alla rubrica all'interno del nostro canale sono riflessioni in sostanza a voce alta dedicate a un autore e ovviamente alle sue opere oggi parliamo roberto di un tema bello perché non solo il bianco e nero quindi fa parte della serie degli autori dedicati al bianco e nero come una sorta di scuola il bianco e nero per vedere come grandi autori grandi fotografi hanno declinato la fotografia appunto in bianco e nero e quindi cosa possiamo imparare dalla loro arte e migliorare le nostre immagini bianco e nero se siamo appassionati tra l'altro se siete appassionati di bianco e nero vi ricordiamo in descrizione il video trovate il corso che abbiamo creato dedicato al bianco e nero è il corso più completo potete trovare in rete sono più di 10 ore di video lezioni dedicato sia all'approccio alla fase di scatto sia alla metodo di post produzione se poi vi interessa anche stampare e ottenere delle immagini delle stampe in bianco e nero del look analogico c'è anche il corso dedicato appunto alla stampa insomma andate in descrizione sono i link che vi portano le pagine e video di presentazione insomma un'opportunità perché i video a parte essere in promozione i corsi ve li potete scaricare quindi siete autonomi e non dovete sostanzialmente essere vincolati a user password abbonamenti eccetera detto questo roberto posso anche ringraziare tutti i nostri follower gli iscritti al nostro canale ci seguite in tanti quello che ci piace su questo nuovo canale riflessioni fotografiche è la presenza i commenti sono tantissimi e quello che volevamo fare no quindi fare una sorta di grande community una specie di circolo fotografico virtuale dove c'è passione dove proprio si traspare trasuda questo amore per la verso la fotografia e questo ci fa ci riempie veramente il cuore ci dà ancora più forza per continuare nella nostra mission cioè di parlare di fotografia pura fotografia noi cercare in questo mondo di intelligenza artificiale di rimanere hai detto intelligenza artificiale per deficienti naturali a parte gli scherzi insomma di rimanere un po' ancorati a questa bellissima forma d'arte io voglio permettetemi anche ragazzi di ringraziare tutti coloro che si sono già iscritti ai nostri corsi perché ci permettono di affrontare insomma le spese le tutte le attività che comunque sono legate al canale non solo in qualche modo di contribuire a tutto il tempo che ovviamente togliamo e tanto vi possiamo garantire all'attività poi lavorative servizi fotografici eccetera e alla famiglia e alla famiglia e soprattutto con chi ha una bambina di 12 anni insomma che sapete cosa significa vabbè a parte questa parentesi perdonateci torniamo a parlare di Michael Kenna vogliamo farvi vedere un libro eccolo qui Michael Kenna il fiume Po perché? prima di tutto perché le immagini sono spettacolari come sempre di Kenna io tra l'altro sono andato a vedere la mostra che c'è stata qui insomma in Emilia e vi devo dire che come sempre il libro per quanto riguarda le opere di Kenna non gli rende giustizia perché Kenna è uno stampatore oltre che essere un grande fotografo e quando vedete le immagini dal vivo sono delle gemme veramente hanno una forza visiva hanno una forza visiva pazzesca tra l'altro un allestimento molto bello però è interessante ragazzi vedere questo libro perché è un progetto che ha la portata secondo me Roberto di tanti sì bisogna aver tempo ovviamente tanto tempo però nella propria zona il proprio tratto del fiume Po noi abitiamo abbastanza vicino nell'arco di 50-100 km si può fare qualcosa che è molto simile ma non solo nel fiume Po cioè il concetto è di trovare un tema che potrebbe essere anche semplicemente il proprio paese è importantissimo oppure chi magari è nella pianura padana una zona della pianura padana oppure è in Toscana di Casali insomma ci possono essere tanti temi assolutamente sui quali creare un progetto e quindi è interessante come Michael Kenna tra l'altro fotografo inglese che vive in America si è riuscito a trasmettere attraverso le sue immagini comunque l'atmosfera di anche un po' solitudine in alcuni casi di quiete cioè lui nella sua ricerca nel suo progetto ha fatto trasparire molto questo la quiete e la solitudine abbiamo visto altri abbiamo anche già parlato di altri fotografi dove invece c'è più energia c'è più energia qui è quiete probabilmente è quello che gli trasmette questa zona quindi lui l'ha voluta trasporre nelle immagini sì l'altra cosa interessante che è uno stimolo per la costruzione dei progetti perché di solito quando uno non so inizia facciamo in questo caso il fiume Po comincia e fa solo gli alberi le barche le cose quindi diventa un pochino troppo ripetitivo dal punto di vista del soggetto invece lui ha saputo l'abbiamo anche parlato con Mauro Galligani con il progetto fatto da Mauro Galligani sul fiume Po lui ha saputo declinare in chiave più artistica Galligani ad esempio da puntista più antropologico il tema del fiume Po variando anche il soggetto lo vedrete fra poco nel libro quindi un altro stimolo è quello di attenzione non essere troppo ripetitivi sui soggetti che inserite all'interno della vostra immagine l'ultimo stimolo è che Roberto lui si appoggiava ovviamente a delle guide del posto quindi per secondi tratti spesso coinvolgeva proprio i circoli fotografici chiedendo a una persona che fosse insomma preparato conosceva le zone un pochino più strategiche quindi si faceva guidare questo è un altro suggerimento importante che molti fotomatori non colgono assolutamente noi di fatti nei workshop che facciamo state sintonizzati perché usciranno dei nuovi corsi workshop a photo experience ci appoggiamo molto spesso su una guida del territorio oppure anche in una guida non del territorio ma comunque conosce bene il territorio proprio perché ci riesce a portare nell'orario giusto nel momento giusto con la luce giusta ed è importantissimo quindi non andare a casaccio no c'è sempre un lavoro di pianificazione va bene detto questo ragazzi che dite ci andiamo a gustare un po' sto libro? direi di sì allora eccolo qua il libro Michael Ken il fiume Po libro un pochino complicato da farvi vedere ragazzi perché è un bestione di 30x30 quindi questo sono 60 cm vedete apre facendovi vedere i vari punti che lui ha fotografato chiaramente dalla sorgente fino al delta del fiume Po Scardovare in delta? o vedo male? beh qui insomma la zona di Comacchio e poi Scardovare sì sì c'è tutta la zona dove tra l'altro noi facciamo anche un workshop eh marcatevelo eh boh allora andiamo a vedere questa è una delle foto più belle qui c'è nebbia questo è il concetto di spazio negativo però è interessante l'impaginazione sì cioè adesso a parte la battuta sì sì non era la battuta eh allora vabbè c'è tutta insomma la parte iniziale qui vedete il nostro grande io l'ho avuto la possibilità di conoscere ci ho parlato diverse volte è una persona di un'umiltà incredibile sì veramente totalmente coerente al proprio stile di assolutamente di assolutamente assolutamente tutta una parte iniziale in inglese molto bella anche in italiano la traduzione in italiano vi consigliamo poi quando comprate insomma di leggervi anche queste parti che sono veramente molto belle è importante è importante sapere la storia ok e iniziamo ovviamente da dove sorge il delta il delta scusate il pola quindi la sorgente del polo qui ci saranno i leghisti che esultano sì infatti vedi che è duro no? è duro ok guardate quando guardiamo le immagini degli autori in generale insomma in bianco e nero cerchiamo sempre di osservare attentamente per quanto è possibile ovviamente è un libro quindi è una ristampa come l'autore ha gestito i chiaroscuri ha gestito l'esposizione io trovo questa foto bellissima tra l'altro dal vivo Roberto ha una forza ha un impatto notevole sì questa nuvoletta qui che parte insomma dalla vetta è stupenda con questa chiesetta che bilancia tra l'altro vedi che c'è un richiamo geometrico qua Roberto molto e poi Kenna non fa stampe enormi no Kenna fa sempre stampe piccole ha proprio questa sorta di cultura e questa è più grande della stampa sua originale sì esatto cioè lui stampa se non sbaglio 21 o 24 per 24 se non ricordo bene formato quadrato abbiamo fatto vedere un altro video Roberto fa un O che invece lui spazia lui cambi formato in dettaglio invece qui c'è un rigore nel formato quadrato che è diventato un elemento distintivo questo è un altro interessante spunto di riflessione esatto sicuramente le regole compositive Kenna le conosce molto bene direi che non c'è dubbio poi abbiamo visto ovviamente anche altre pubblicazioni e questo suo stile sì questo qui mi ricorda questo fiume questo torrente nero su questa neve bianca che comunque è in gamma ragazzi e tengo a precisare cioè non è fuori gamma la neve mi ricorda certi suoi scatti che ha fatto in oriente come tipo di sul Giappone insomma e qui penso che abbia un po' mascherato secondo me per aumentare questo contrasto e utilizzo sicuramente anche dei filtri in maniera abbondante filtri rossi in alcuni casi ma io penso anche all'infrarosso sinceramente non ne sono convinto magari qualche nostro amico lo sa ma credo anche in alcuni casi anche il filtro infrarosso per qualche immagine quindi vedete ci sono immagini del suo tipo io ti dirò che a me anche questo tipo di immagine a me non dispiace sinceramente però vi ripetiamo che le immagini viste dal vivo ragazzi sono qualcosa di completamente diverso soprattutto da puntista di equilibri tonali molto bello questo con la tecnica del mosso diagonale con sì con un tempo di scatto abbastanza lungo qui saremo stati su non so quanto vanno veloce magari un quindicesimo di secondo penso perché vedi l'acqua non è poi sì sì quel tanto che basta che dare quel micromosso di movimento sugli atleti anche qua come potete vedere un attento studio chiaramente dell'orario della luce e comunque Kenna utilizzava spessissimo utilizza spessissimo lunghe esposizioni no? sì qui interessante secondo me ancora una volta in post produzione vedi che ha creato praticamente questo l'abbiamo visto anche con Fanon sì c'è una sorta di vignettatura leggera comunque è presente bellissimo questo scatto sì poi questa questa struttura piani no? sempre utilizzando i contrasti il più o meno scuro da sicuramente quella effetto tridimensionale che la fotografia non può avere essendo su due dimensioni dal punto di vista dell'impaginazione ti dico la verità Roberto a me piace molto sono un po' un fan di questa cosa sono un sostenitore l'avere un passpartum intorno all'immagine assolutamente ma anche i lavori che consegnava è sempre il passpartum sì sì per me è una cosa che dà come dire valore un po' all'immagine vedete che vi dicevo in apertura che effettivamente lui utilizza ha fotografato altri soggetti anche appunto come dire raccontando l'antropizzazione guarda Roberto qua la linea l'ombra che cade nel riflesso molto bello esattamente ha raccontato proprio quello che è la struttura di quello che è diciamo il paesaggio urbano o meno lungo il fiume Po e vi assicuro io essendo proprio di zona che queste ciminiere sono proprio tipiche della zona del Po fanno proprio parte della storia della cultura dell'Emilia Romagna ma in questo caso è Vercelli sì ma comunque vedi anche la lunga esposizione secondo me gli dà un quid in più in questa immagine qua i ponti i ponti ce ne sono a Iosa molto bella l'inquadratura linee orizzontali in questo caso speculare qui le geometrie sono fondamentali magari se vi interessa visto che qui ci sono i posti iscritti potete anche andarla a ricercare certo e ripare certe foto insomma qui arriviamo qui forse Damiano ti riferivi anche a questo scatto che sospetti di pellicola infrarosso questo qua sì sinceramente mi sembra un filtro però è un filtro che ha scurito molto l'erba è scurito molto qui però il cielo a meno che non fosse slavato allora è diventato molto più scuro potrebbe essere un filtro rosso insomma comunque l'immagine ha fatto bene a creare questo contrasto perché altrimenti diventava piatta un pochino piatta invece qui vedi ha messo in accostamento guarda interessante questa cosa Roberto ha messo in accostamento proprio invece nell'evento suo in Iki quasi no è geniale è accoppiato il traliccio dei ponti con diciamo quello che è gli alberi la natura vedi sì interessante questo scatto qua questa è proprio una lunga esposizione abbastanza tipica di Ken devo dirti la verità mi le lunghe esposizioni piacciono però dopo un po' se sono troppe un po' mi stancono anche sono sincero e telefonoro a Ken e glielo dico adesso mi diamogli l'email e dice Ken per favore basta questa lunga esposizione prenditi la 9.3 così questa è bellissima ecco scatto mi ricordo dal vivo veramente spettacolare la stampa anche questo insomma bello comunque devo dire che è stampato bene questo libro non è che sia sì insomma i libri di Ken è difficile che trovi delle schifezze anche qua vedi lo stesso giochino molto guarda che bella questa nuvola qua sembra una pennellata sembra una pennellata stratosferico anche qua vedi Roberto ha fatto benissimo ammetolo e ti dà anche profondità e dà base allo scatto esatto pulizia rigore compositivo profondità studio della luce contrasti corretti è veramente uno dei grandi maestri della fotografia paesaggistica del bianco e nero l'agricoltura si passa da foto estremamente statiche molto poco dinamiche scusatemi fatemi passare il termine a foto estremamente dinamiche questo intelligente utilizzare il tempo rispetto un po' lungo sempre quasi di sentire il rumore del camion sì in contrasto con la quita con lento scivolare dell'acqua non sempre non sempre bellissimo anche questo movimento qua veramente spettacolare vedi che spesso insomma c'è questa sorta di vignettatura questa mascheratura sì comunque non esagerate con la vignettatura sempre una cosa di fino questo lo trovo uno scatto intelligente di utilizzare proprio questo che è tipico assolutamente di un argilloso eccetera dove c'è il fiume in secca e praticamente crea questo movimento particolare con i solchi e ha fatto bene a inserirlo in pieno in quadratura mi piace tantissimo questo scatto l'ho visto ripeto dal vivo è ancora più bello veramente strepitoso questi sono scatti comunque che non dico che sono facilmente fattibili però devono essere di stimolo cioè guardate ha detto giustamente Damiano guardate la località ma comunque non è che ci siano solo in quella località le piantagioni di questo tipo ma studiate bene la luce studiate bene le composizioni l'ordine la profondità che si riesce a dare con degli scatti che non sono impossibili da emulare ma devono essere da stimolo nel senso non cercate di copiarli ma cercate di capire quello che è la pulizia di queste immagini comunque riuscire a vedere questa scattare queste immagini noi conosciamo i posti possiamo garantire che non è assolutamente facile trovare uno scatto ad esempio di questo tipo cioè devi avere un occhio un occhio notevole chiaro un occhio notevole e pulire l'immagine cioè bellissima questa cosa con l'imbarcazione qui qui sicuramente avrà appena appena schierito in alcuni casi ho giocato con dei contrasti molto forti che insomma è giusto anche per il tipo di bianco e nero assolutamente bellissimi bellissimi scatti bellissimo lavoro e comunque mi ripeto ancora alzate il sediere presto e uscite presto oppure uscite verso sera per fare questi scatti non bisogna essere pigri sembra di copertina sì è fatto di copertina perché è stata scattata a Ferrara Ferrara il regno della nebbia quindi la nebbia ponti di Spagna chiede Ferrara lo conoscerà sicuramente mi piace da impazzire anche il suo scatto e ripeto dal vivo ragazzi veramente spacca anche questi guardate i casolari ecco per dire può essere un'idea di un progetto i casolari ragazzi quanti ne avete nella vostra zona voi fate una ricerca andate sul posto studiate la luce l'orario giusto bisogna partire con dei progetti chiaro non potete fare dei progetti così importanti e e pesanti questa è Scardovari questa è una sacca di Scardovari spettacolare devo dire che qui per fare questa foto ha utilizzato sicuramente ora o l'hanno portato con un'imbarcazione ma non credo ma non hai fatto uno scatto del genere tu magari fosse così diciamo del genere comunque ci vuole un tele un super tele qui e qui tempi di scatto molto molto lunghi comunque ci devo tornare a breve ritento sarei più fortunato mi piace vedere come gioco anche con le nuvole anche questo sempre Scardovari con le nuvole come gioco con questi tempi lunghissimi che danno il mosso delle nuvole insomma vabbè ragazzi poi nelle valli del comacchio ci si trovano guardate spettacolari queste cose qui sono veramente come si dice da paura by fear chiude l'opera con questo scatto qui ecco qua e ritorna il suo percorso 600 km ragazzi ecco qua dove li facciamo vedere il fiume Po Michael Ken è una pubblicazione anche che non è difficile da trovare non è un libro rarissimo si trova facilmente si trova facilmente il costo 55 pioppi in questo caso ho faggi invece di mangiare due pizze vi comprate sto qua che è meglio beh guarda quasi una pizza ormai perché è vero comunque Roberto ti rifaccio sempre la solita domanda a chiusura di queste serie di rubriche sul bianco e nero che cos'è che ti porti a casa insomma che ti ha stimolato come riflessione come stimolo di miglioramento guardando questo lavoro di abbandonare un po' la mia pigrizia perché io sono piuttosto pigro forse sono legato ancora all'età cioè mi dirò Roberto alza le chiappe parti vai a sacca di colorno vai a via d'ana è la mia zona è la nostra zona lui è stato acquisito da romano è venuto la nostra zona però in effetti quando vuol fotografare anche Damiano o va sui nostri monti sui nostri penini o va direttamente alla bassa perché la bassa ha la sua poesia sì la bassa sarebbe più o meno a padano sì e quello che mi colpisce dice che uno straniero come Kenna che proprio della bassa non ne sapeva una cippa si è informato si è documentato e l'ha saputa esprimere trasmettendola a me che sono della zona cioè noi non sono proprio della bassa non sono proprio non abito vicino al po' però mi sento molto legata alla cultura di questa zona e Kenna è la dimostrazione è la dimostrazione che con la passione con la cultura con l'informazione con la pianificazione si riesce a fare ottimi lavori e a far apprezzare a uno come me della zona quanto è il po' è chiaro non è un fotogiornalista non è Galigani che ha fatto un altro tipo di lavoro però ha trasportato la poesia di queste zone e mi ha fatto capire che con l'impegno con la cultura con la tecnica perché chiaramente non manca la tecnica quando noi alle volte ci criticate perché noi di riflessioni parliamo di apparecchiatura ci sta cioè la fotografia si fa con l'apparecchiatura e devi conoscere anche tecnica non è la priorità ma fa parte di tutto questo castello comunque con la tecnica con l'impegno con la cultura col sacrificio si possono fare veramente dei grossi salti a livello di opere sì comunque lo stimolo è quello ragazzi createvi un progetto fotografico uscite andate a realizzarlo perché quel progetto soprattutto se ad esempio in questo caso anche a Navalenza se vogliamo turistica può darvi magari crearvi delle opportunità cioè può crearci delle opportunità tu fai un progetto su un lavoro poi magari lo presenti a qualcuno gliene parli eccetera e chissà da cosa nasce cosa e comunque abbiamo fotografato con un senso con uno scopo per di più qui l'altro elemento Roberto è importante che nonostante fosse il Po non è il Giappone insomma non sono immagini tipiche di Kenna però lo stile di Kenna è sempre riconoscibile quindi questo è un altro stimolo di riflessione va bene ragazzi vi abbiamo detto anche quello che pensiamo su questo lavoro su questo grande autore come sempre fateci sapere lasciate nei commenti iscrivetevi al canale mi raccomando se siete dei veri appassionati di fotografia altrimenti insomma ciao ci vediamo al prossimo video se volete dedicarvi in maniera approfondita al bianco e nero c'è il corso dedicato al bianco e nero ma insomma andate a vedere tutti i corsi che sono in descrizione al video ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao